e ben a tutti ragazzi e ragazzi sono il vostro caro Mastro Kinga e benvenuti in questo nuovissimo video allora l'ultimo video siamo arrivati a fare missione con arrivare all'intermedium solo che andando avanti l'ultimate furnace me la praticamente give balla nel loot bag e quindi diciamo che oramai ce l'ho diciamo che no non volevo fare questo bensì volevo recuperare la roba allora questi due sicuramente mi serviranno allora qualche parte dovrei avere il piccone con c'è il piccone di pietra avvio il fintestile deve essere pieno quindi si quindi lo devo ricraftare ok penso che questi per il futuro basteranno no non volevo te no non è che te ok perfetto ah ok finalmente si era un attimo baggato allora perché in questo perché che devo fare 10 forza al frame vediamo se ok l'ultimate completata e questi al momento non mi servono allora vediamo cosa mi dice non mi dai semplicemente delle no non mi dai delle informazioni allora quindi dandomene 10 presuppongo che debba piazzarla allora due da una parte tre dall'altra due sopra e tre a scendere in teoria mi dovrebbe riprendere uno perché ne ho fatta uno di troppo no non volevo entrare nel portale ok quindi siamo entrati in un portale dove ci porterà non lo so e intanto ti sistemo dico dove porterà non lo so devo prima diciamo appunto che non sapendo cioè non avendo mai fatto questo portale non so dove potrebbe portarmi che allora ci mette un po' a caricare ecco ah ok stiamo qui all'aperto e qui questo penso che sia semplicemente la parte dove minare ci sta pure un villaggio e faccio solo 6 fps ok ora sto a 12 veramente 1 addirittura sono veramente veramente pochi questi fps che faccio ok piano piano sto recuperando perché sta generando il mondo quindi sono arrivato tranquillamente a 20 ok diciamo che ora come ora aggiungo il waypoint quello del portale e lo farò metterò soft qui si posso potrò teletrasportarmici senza che diciamo senza che si vede tutta la parte del portale ok dove stanno sempre le farfalle le api ok allora dicevo cosa sicuramente dovrò togliere e la lo jump perché non so il motivo ma è attivo la scelta no non posso prendere a quanto pare neanche con questa no sarebbe carino trovare un modo per raccoglierla diciamo che per il momento è diciamo posso esplorare e basta ok sto trovando delle bacche ora correndo in teoria dovrei perderne perdere un po' di fame quindi ah poi ho formato un po' di nel star quindi se mi vedete che sto le nel star sapete il motivo vedete non me la date intanto il gioco allora non so di cosa ci sia poi ovviamente andrò a vedere ok questo scienzi cube che non aprirò ok qui quanto pare ci sono in giro le scienzi cube ma non avendo il diciamo il lo strumento adatto per aprirlo quello di car 3 l'amuleto diciamo che non ho intenzione di aprire di aprirlo almeno non finché non avrò l'amuleto adatto ok quanto pare il fabbro non c'è l'unica cosa che posso che poi posso aprire sono le scienzi cube che aprirò in un secondo momento allora no vorrei aprire te ma si sono aperte altre questa a quanto pare no no quanto pare no quindi vado avanti allora ora vediamo cosa il portale ci darò perché c'è questo portale penso sia un portale non ne sono assolutamente sicuro sicuro che sia un portale allora intanto di qua devo togliere il volume ok qui ci sono gli chest l'abilità 2000 ok cose abbastanza carine che ovviamente poserò qui perché non perché al momento non servono ora però devi capire cosa sei tu un accumulator ok diciamo che quello che pudevo fare l'ho fatto ovvero razziare di cesta allora diciamo che al momento l'unica cosa che posso fare è vedere se ci stanno qualche monumento qui in zona e forse aprire lo scienzi cube no no sono praticamente ok sono morto e non mi aspettavo questa cosa sinceramente però diciamo che per fortuna ci sono le ci sono le tombe quindi non ho perso le cose dentro la lava ora cosa posso fare è andare qui vicino no non mi di che mi ha piazzato nuovamente ah ok ecco perché infatti sembrava strano che ok mi rimetto armatura un ape non so non conosco l'utilità quindi allora il waypoint lo da morte lo posso eliminare ah ok pure la mappa ha ricominciato a funzionare in qualche modo ok volevo andare verso di qua sto andando verso est perché ho visto questa zona qui prima di di aprire lo scienzi cube ok a quanto pare quelle sono zucche sembrano o è semplicemente un credere ok è semplicemente un credere però non male quando si incontrano i credere più che altro per il semplice motivo del del fatto che si incontrano qualche minerale no mi ha dato il glitter ok però quanto pare si incontrano delle bacche quella vero dando poca fame però però ci possiamo raccontentare perché visto si trova a destra a sinistra non si cucinano almeno non credo che si cucinano allora non credo che questo sia quello che abbiamo visitato prima quindi razzirò pure questo un diamante ok api api e tanto mangio pure allora ora le continuo più o meno esplorare più che altro perché non diciamo a parte il minare non vedo di ritare questo posto oh la la stavo per andare a schiettare quindi non minerò e allora direi che per il momento posso tornarmene al portale visto che mi sono allontanato e non poco quindi aspettiamo un attimo che mi ricarica il mondo allora ragazzi sui belli qualche cesso abbiamo aperto qualcosa abbiamo ottenuto nuovo nuovo posto quindi avrò finalmente dei minerali quindi direi che per questo video è tutto spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando di mettere mi piace di iscrivervi al canale e di seguirmi su twitter e su facebook o comunque voi io vi saluto ciao a tutti voi